I fuoriusciti, i dissidenti, chiedo a Fontana, il problema del Movimento 5 Stelle sono quelli che ad un certo punto se ne vanno, che non ci stanno più comodi dentro? O è il DNA, la natura stessa di questo movimento che, ricordiamolo, nasce dicendo noi non siamo né di destra né di sinistra e ci andiamo a collocare proprio in uno spazio altro rispetto alla destra e alla sinistra? Sì, io penso che la natura stessa del Movimento 5 Stelle che ha messo insieme persone delle provvedenze più diverse, paragone a un percorso politico e giornalistico che ha avuto all'ambito la Lega, poi ha fatto altre esperienze, cioè mettere tutti insieme nel nome di essere contro qualcosa è abbastanza facile. Poi, quando ci si misura con le esperienze di governo, si debbono assumere delle responsabilità, si debbono prendere decisioni, a quel punto il tappo salta e quello che sta accadendo al Movimento 5 Stelle ne è la dimostrazione. Io credo che sia un movimento in perenne evoluzione e anche con un certo rischio di non farcela ad arrivare a quell'orizzonte dei vent'anni che dice Grillo.